Lo conosco da tanto tempo, era nella stessa organizzazione sindacale nella quale ho militato anche io insieme a lui. È un politico di razza, una persona per bene, competente, ama la Sicilia. Io penso che siano tutti i requisiti che oggi le persone ci chiedono. Tante persone scese in campo in maniera approssimativa, facendo della non esperienza un valore, abbiamo visto che hanno fallito. Poi io vengo da Roma e quindi Raggi sta insegnando a tutto il paese che è bene affidarsi a chi invece sa in qualche modo rappresentare gli interessi delle persone attraverso azioni di governo concrete. Onorevole, oggi qui a Messina per presentare una candidatura di un giovane. Una novità in politica, o almeno a quello che ci avete abituati? È una novità, diciamo che in particolare Forza Italia sta cercando, lo dice il presidente Berlusconi ogni giorno, di ringiovanire la classe dirigente. Oggi partiamo con un ragazzo di 21 anni che però ha già, come dire, sulle spalle una carriera familiare di politica, è vissuto in mezzo alla politica, sa parlare di politica. vuole in qualche modo mettere a disposizione di questa regione tutta la sua capacità e noi lo sosteniamo per questo.